Buongiorno a tutti, prima conferenza stampa qui in ritiro a Primiero, alla mia destra vedete Gian Giacomo Magnani come siete ormai abituati, prima diamo precedenza ai colleghi che sono qui presenti sul luogo del ritiro dell'Ellas Verona poi invece daremo spazio anche alle domande che sono arrivate dai colleghi da Verona. Prego iniziamo pure con Alessio Facincani, Telearena. Benvenuto, ci siamo lasciati appena un mese fa, è passato magari anche poco tempo da quello che è accaduto da quelle che sono state le emozioni dell'ultimo campionato, ti chiedo se il primo proposito di quest'anno è quello di non soffrire come l'anno scorso Gian Giacomo. Buongiorno a tutti, sicuramente è il primo proposito, anche se è stata una sofferenza che alla fine ci ha portato un traguardo importante e se dovesse ripetere la raggiungere lo stesso traguardo sarei comunque contento. Ti chiedo a livello personale, seguendo un po' la tua parabola qui a Verona ci sono stati alti e bassi allenatori che ti hanno utilizzato tanto, allenatori che magari ti hanno utilizzato meno, ti chiedo se per età, anche l'età che hai, per qualità fisica può essere davvero questo l'anno della consacrazione per Gian Giacomo Magnani. Lo spero, nel senso che sarebbe bellissimo farlo qui, con questi colori, lo vedremo, sicuramente da parte mia ci sarà l'impegno massimo per raggiungere la mia versione migliore. Mi spieghi un po' come sono andate queste stagioni per te con la maglia del Verona, perché magari da fuori ci siamo fatti un'idea, magari tu puoi raccontarci quello che è accaduto, tra allenatori che ti hanno utilizzato meno, tra allenatori per cui sei stato alla fine insostituibile come l'anno scorso. Che percorso è stato, un po' sulle montagne russe, che percorso è stato? È stato un percorso positivo, che mi ha insegnato tanto, che mi ha fatto capire che ho dei limiti, come abbiamo tutti, non sempre si riesce a vederli, ci vuole tempo, non sempre dall'altra parte ci trovano persone che sono caratterialmente perfette per noi, come tante volte noi non lo siamo per gli altri, e bisogna rendersi conto che questo fa parte del gioco e della vita e spero di aver capito, di aver lavorato e di continuare a lavorare su quelli che sono appunto i miei limiti per trovare la mia versione migliore. Ti chiedo quali sono stati magari questi limiti, se vuoi raccontarci un po' quello che hai capito, perché l'hai appena detto tu. Tante volte bisogna accettare che magari le cose non vengono fatte, dette, o come le faremmo o le diremmo noi, bisogna provare ad andare oltre e a concentrarsi solo sul lavoro, pensando il meno possibile e facendo il più possibile. Io forse tante volte mi sono concentrato su tante cose, ho fatto caso a tante cose che mi hanno distolto la mia attenzione da quello che era veramente il mio obiettivo e da quello che era veramente ciò che dovevo fare in quel momento. Penso di averlo pagato e di averlo capito. Alberto Fabri, Ella Slive. Ciao Gian Giacomo, ben trovato. Io guardavo un attimo i tuoi numeri, 96 presenze in SRA, insomma il numero 100 fatidico, che per tanti vuol dire anche un traguardo importante, di queste ben 63 sono in giallo e blu, quindi diciamo che la tua esperienza più importante a Verona l'hai fatta proprio con la casacca dell'Ellas. Come dicevi poc'anzi al collega, quest'anno per te può e deve essere una stagione di consacrazione, e noi ti abbiamo visto un po' dottor Jackie Misrae, ovvero contro Lukaku, ad esempio, piuttosto che con Zappata, e hai dimostrato che insomma tu in questa Serie A ci puoi stare e dire la tua. Sì, sono convinto di sì, anzitutto è un piacere e un onore per me avere così tante presenze con questa maglia, spero di raggiungere traguardi più importanti con questi colori. E' vero, certo, come dicevamo prima, alti e bassi, partite molto positive, partite casomai meno negative, fa un po' parte di ognuno di noi, succede un po' a tutti così, e spero di ritrovare una continuità, una continuità lungo questo campionato che mi consenta di appunto consacrarmi. Parlando sempre di partite, l'anno scorso insomma abbiamo visto una stagione, due campionati in uno, sosta mondiale providenziale, perché vi ha permesso di rimettere benzina nelle gambe, e forse anche di pulire un po' qualche scoria in eccesso, visto come era stata la prima parte di campionato. E ti chiedo se tu dovessi raccontare a un bambino, dove è stata la partita, il momento chiave della passata stagione, dove proprio voi avete switchato e siete riusciti in un'impresa sportiva. Io sicuramente vedo in Sassuolo e Bologna le due partite chiave, e se non fossimo riusciti a ottenere quei due risultati sarebbe sicuramente stato tutto molto più complicato, emotivamente direi Sassuolo, per la giornata, per il momento, per il momento della società, per i tifosi, per il risultato al 95esimo, per tutto quello che c'è dentro quella partita, direi senza ombra di dubbio quello. Ecco, un Gian Giacomo che mi permetto di dire è anche molto maturato da quando hai avuto anche il piacere e la fortuna di diventare padre. Insomma, io immagino che per un essere umano gioia più grande non possa esserci. Il fatto di avere appunto un pargoletto che quando rientri a casa, penso di te regali un sorriso, che tu davanti alle telecamere giustamente non sempre sveli, però penso che sia uno dei momenti più belli della tua giornata, non solo sportiva. Ho fatto questo preambolo anche per arrivare, secondo me, a un tema molto molto importante. Quanto conta la testa? Adesso il Verona, non dico che sia nata una rivoluzione, però sicuramente ci saranno delle novità importanti. Tatticamente già parlando, con mister Baroni, non ti chiedo le prime impressioni, perché mi viene da dire che possa essere una risposta abbastanza ovvia e scontata, ma tatticamente parlando, tu da difensore, mi sembra che stiate già lavorando con un'altra impronta tattica. Sì, sicuramente il tempo è pochissimo, il tempo trascorso è pochissimo, il tempo sul campo è stato fino ad ora poco. Abbiamo provato a lavorare in un altro modo, stiamo provando a lavorare con un sistema tattico diverso. Ho visto grande disponibilità, c'è grande disponibilità da parte nostra, da parte di tutti. Dobbiamo essere brevi a capire che il calcio non è solo quello che abbiamo giocato fino adesso, ma ci sono tanti altri modi di giocare. Prima riusciamo ad entrare in quest'ottica, prima riusciamo ad adeguarci a questo, e prima riusciremo ad adattarci, insomma, ad ottenere risultati. Prima di passare la linea ai colleghi da Verona, hai fatto anche le vacanze con uno che fino a poco tempo fa era una delle colonne portanti dell'Elas Verona. Che effetto ti ha fatto rientrare in quello che adesso è sempre più tuo spogliatoio, non trovarti più Miguel Veloso? Sicuramente è triste non averlo qui, non entro nel merito del giocatore, non entro nel merito delle scelte che possono essere state su e che possono essere state la società, non mi compete. Sicuramente il Miguel Uomo ci mancherà, perché è una persona splendida, è un ragazzo d'oro ed è sicuramente una persona che ha sempre messo tutto quello che aveva qui dentro. e quindi a lui va il mio più caldo saluto e il più caldo abbraccio. Ciao Gian Giacomo, la prima domanda, parlando di tattica, dovesse Mr. Baroni impostare la difesa a quattro, tu come ti troveresti dal punto di vista del punto tattico? Io in passato ho giocato a quattro, a me personalmente piace, è un gioco, come dicevo prima, diverso, sicuramente completamente diverso da quello che abbiamo fatto fino ad ora, altrettanto bello, altrettanto stimolante, e ripeto, dobbiamo metterci il più presto possibile nell'idea, nell'ottica di fare questo nuovo modulo. Una domanda per te, personale, dovessi sceglierne una o dirne una così a mente fredda, qual è stata la tua miglior partita da quando sei in giallo-blu? Oddio, è una domanda difficile. La mia migliore partita in giallo-blu, faccio un po' fatica a dare questa risposta, nel senso, posso dire quelle che sono state le partite emotivamente più importanti per me, sicuramente il Milan quest'anno al Bente Godi è stata una partita che per me ha avuto tantissimi significati e che porterò sempre nel cuore. Mi viene in mente Udine, mi viene in mente l'Inter con Lukaku, mi vengono in mente tante, forse se dovessi scegliere la più recente sceglierei il Milan per il valore che ha avuto per me. Tornando un attimo nel passato per venire al presente, cosa hanno insegnato e quanto vi hanno fortificato le difficoltà della scorsa stagione? Sicuramente tanto, le difficoltà a volte ti distruggono, a volte ti fortificano, il risultato che abbiamo ottenuto a fine della stagione ci ha dato la risposta, siamo stati sicuramente fortificati da queste, e speriamo ce ne siano un po' meno quest'anno. Ultimissima domanda, quanto c'è di spirito Hellas in Magnani e quanto ti senti questi colori addosso sulla pelle? Sicuramente tantissimo, non lo dico perciò a costanza, Verona è una città che amo e è gente che amo. Lo dico oggi e lo porterò sempre avanti, al di là di tutto, perché sono sempre stato accolto e trattato in maniera splendida. Verona è una città meravigliosa, lo dico sempre, dopo casa mia è l'unica città che veramente mi ha fatto pensare di trasferirmi, ne parlo spesso anche con Eleonora che è la mia compagna, e quindi tanto, la risposta è sicuramente tanto. Grazie, buon lavoro.